Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100k. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Salve a tutti. Oggi, dalle scogliere di Dingley, lo chef consiglia Formaggio di capra con pepe È un formaggio tipico di Gozo, che però rappresenta un pochino la personalità sia di Gozo che di Malta. Un formaggio dal gusto deciso, eppure gentile. Un pochino come queste isole, Piene di pietre, spigolose, eppure ricche di colori e di profughi Naturalmente, per un pranzo del genere, ho prenotato un posto particolare Sono arrivato qui dopo una passeggiata di 6-7 chilometri Sono arrivato qui dopo una passeggiata di 6-7 chilometri E, insomma, lo stomaco, come si dice in Puglia, si è aperto A quest'ora, con questa rietta frizzante, dopo una bella passeggiata Il formaggio del genere è proprio il massimo Del resto, l'importante è voler scoprire le cose Due euro, tutto formaggio, un pezzo di pane E questa è la felicità Vostok 100k continua, ancora per poco Domani finisce il mio viaggio qui a Malta Però, intanto, il dio del viaggio sicuramente avrà in serbo Ancora molte sorprese per questo umile viaggiatore Buon appetito!